Ciao, bentornato nel mio canale YouTube. Oggi parliamo di come gli impianti possono essere utilizzati per risolvere i problemi dentali. Se hai perso un singolo dente e vuoi sapere come sostituirlo questo è il video giusto. In un video precedente spiegando cosa siano gli impianti gli abbiamo definiti delle radici artificiali che sostituiscono la radice naturale del dente perso e che permettono quindi di costruire su di essa il dente mancante. Da questa definizione quindi puoi già capire che se ti manca un singolo dente con un impianto ed una corona lo puoi sostituire. Se guardi l'immagine qui a fianco puoi vedere che c'è uno spazio vuoto lasciato tra un dente e l'altro che viene appunto riempito con un impianto. C'è la vite dentro l'osso, c'è il moncone che viene avvitato dentro l'impianto e c'è la corona applicata sul moncone. Prima dell'avvento degli impianti l'unico modo per sostituire un singolo dente perso era mettere un ponte, nel caso specifico quindi un ponte che è rappresentato da tre corone unite insieme per sostituire un solo dente mancante. Quindi il ponte si appoggia sui denti vicini che spesso devono essere anche devitalizzati quindi se manca un dente solo bisogna tra virgolette rovinare i due denti vicini e il ponte sarà fatto di tre denti. Sui vantaggi e svantaggi dei due tipi di riabilitazione impianto ponte te ne parlerò in un altro video. Grazie a tutti.